Dopo un anno intenso, la Cooperativa Sociale Meridiana ha presentato nell'Aula Magna dell'Università di Macerata i risultati di un progetto di formazione dal titolo Comunicazione e Sicurezza Meridiana, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell'Ateneo Maceratese. Loro avevano bisogno di investire nella comunicazione della cooperativa e noi abbiamo fatto la proposta di formare il loro personale a attuare delle forme di comunicazione efficaci, lavorando sia sulla comunicazione interna che sulla comunicazione esterna. Ospite speciale dell'incontro, Barbara Capponi, giornalista e conduttrice RAI, che ha raccontato la sua esperienza di cronista nel mondo del sociale. Negli ultimi anni appunto il tema sociale, il racconto sociale si sta guadagnando sempre più spazio anche nei telegiornali, anche nelle trasmissioni, anche nei quotidiani più prestigiosi e quindi questo diciamo è un punto di, come se stiamo un po' ad una svolta. Il progetto, finanziato dal Fondo FAPI con il sostegno di Yalmark SRL, ha affrontato diverse tematiche, tra cui la comunicazione interna ed esterna, il marketing, la sicurezza, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Non è un punto d'arrivo, ma di partenza, ha detto il presidente Spernanzoni, che ha colto l'occasione per annunciare che il 2015 sarà un anno molto speciale per la cooperativa, visto che ricorrono 20 anni dalla sua fondazione. Volevamo innovarci rispetto a quello che è il mondo come ci sta oggi, non solo in tema di comunicazione, ma in tema di sicurezza, in tema delle tematiche che affrontiamo tutti i giorni. Abbiamo iniziato questo percorso che oggi vede il risultato o la rendicontazione della prima fase, poi da qui faremo tutta una serie di iniziative che già abbiamo messo in cantiere, ma le concluderemo a breve, ma questo è un percorso che non finirà mai, è un miglioramento continuo.